Ok, allora tutti conoscono Luca come growhacker, esperto quindi della materia, tra l'altro lui ha fondato pure un'azienda dove sicuramente poi tu ce la presenterai, io la leggo all'italiana 47x così i nostri amici se la possono andare a cercare pure su internet, tra l'altro immagino che poi la pronuncia in inglese, però poi ecco ha scritto il primo libro sull'argomento quindi è molto attivo, sicuramente Luca è da seguire se vi interessa diciamo il tema del growhacking e secondo me dopo oggi pure applicato e soprattutto applicato alle community, infatti oggi parliamo di un tema che anche a me è molto caro, parliamo del tema della cultura aziendale perché ce n'è diciamo i momenti di convivio tra colleghi sono molto diffusi, però se pensate che possa bastare solo quello a ritenervi una community vi state sbagliando, quindi ora Luca vi darà tutti quegli altri tasselli che mancano a trasformare veramente l'ufficio, diciamo il posto di lavoro in una community, in una vera e propria tribù, un gruppo fortemente ingaggiato che poi sicuramente, poi questa sarà la tua tesi immagino, poi rende pure di più sul lavoro, giusto? Assolutamente. Allora ti lascio spazio, ricordo un attimo velocemente a tutti i nostri amici che siamo ben a trenta che possono utilizzare la chat per tutte le domande a Luca, poi Luca non ti preoccupare, se tu preferisci puoi pure leggere tu, però non ti preoccupare tutte le domande saranno raccolte alla fine, quindi abbiamo i cinque minuti finali per rispondere a tutte le domande, te le leggerò direttamente io, ok? Grazie mille Luca, partiamo. Grazie a te. Allora intanto buongiorno a tutti, come già introdotto, grazie Innocenzo insomma per la presentazione, sono Luca Barboni e sono cofondatore e diciamo responsabile della parte di marketing, di crescita di questa agenzia 24x che fa growth hacking e piuttosto che parlarvi di strategie e di growth hacking in particolare vi parlo della parte che non si vede, la parte interna, perché recentemente noi come azienda abbiamo deciso di fare un po' una trasformazione seguendo un po' questa riflessione del fatto, come diceva all'inizio, non è che basta fare ogni tanto l'evento di team building o andare a cena o starsi simpatici e ridere insieme per poter effettivamente dire che il gruppo di persone con cui lavori e l'azienda, come le community, sono fatte di persone, alla fine è realmente un gruppo, un'unità e quindi seguendo questa cosa abbiamo approfondito questa dimensione della cultura aziendale, trovato tanti esempi di aziende che invece hanno modelli molto particolari di cultura aziendale e di gestione del team e abbiamo cercato di risolvere questi problemi perché poi ovviamente hanno anche un impatto sulle performance, sugli obiettivi aziendali. Quindi la domanda principale era ma un team aziendale si può dire che è una community solo perché è un team? Nel senso sono persone che passano tanto tempo insieme, ormai più online che offline, però comunque collaborano tutti i giorni, eccetera. E la risposta è no, non è automatico, non si può dire che automaticamente il team dell'azienda, il gruppo, il dipartimento, è una community. E a quel punto la domanda diventa, allora se non lo è, dovrebbe diventarlo? C'è un vantaggio, c'è un motivo per cui dovremmo cercare di andare in quella direzione? E qua c'è un background, diciamo, di ricerca perché su questa tematica, ovvero la creazione di team di successo, proprio Google ha avviato una ricerca, sempre dietro le quinte, sui loro interni, per cercare di identificare le caratteristiche che determinassero un team di successo superiore a tutti quanti gli altri. E quello che hanno scoperto, vi faccio lo spoilerone, è che le caratteristiche più importanti erano queste. La, diciamo, la sicurezza psicologica, l'interdipendibilità tra persone, struttura e chiarezza, significato e impatto. E la cosa particolare è che soprattutto queste tre, mentre la dipendibilità riguarda le deadline, il lavoro di qualità, quindi ambiti molto pragmatici, molto aziendali, struttura e chiarezza anche, che le aspettative siano chiare. Tra l'altro, in molti gruppi aziendali, in molte aziende, succede che i dipendenti non riescono ad avere buone performance, semplicemente perché nessun manager gli ha detto esattamente cosa volevano da loro. Quindi la chiarezza è fondamentale. Ma soprattutto, come dicevo, queste tre sono un po' più personali e sono degli elementi che sono, in realtà, alla base delle community. Per esempio, la sicurezza psicologica di cui si parla è la sicurezza nel poter esprimere le proprie opinioni, prendersi dei rischi, proporre delle cose senza sentire il rischio di essere umiliato, punito, eccetera, eccetera. Il significato è il fatto che le persone hanno un senso di scopo in quello che fanno e viceversa l'impatto è che il fatto che le persone possono vedere dove va a finire il loro lavoro, la conseguenza delle loro azioni. L'impatto sul gruppo, sul resto del mondo, quello che fanno, che propongono, sta apportando. E quindi c'è però chiaramente una contraddizione, un paradigma particolare da risolvere, perché comunque, mentre le community spesso si formano attorno a una passione comune, ma in generale non hanno obiettivi di fatturato, non necessariamente, mentre l'azienda invece deve comunque avere un fine che permette all'azienda di sopravvivere, se non di crescere e così via, c'è un po', no, il, dicevo, il paradigma tra relazioni personali e relazioni professionali, perché per poter avere impatto su quegli elementi là, devi un po' sconfinare nel personale. Però c'è una differenza tra una famiglia o un gruppo di amici e una squadra che ha degli obiettivi di performance. La differenza è che se nella famiglia il bambino, il figlio, ha la partita, il campionato, non fa gol, gli dici, vabbè, dai, sarà per la prossima volta, non fa niente, ti vogliamo bene lo stesso. Nella squadra professionale, invece, se l'attaccante non riesce a fare i punti, prima lo metti in panchina e ne usi un altro e poi dopo, se non si ripiglia, lo devi mandare via e devi prendere un attaccante diverso. Quindi, come fare a coniugare queste cose? Perché è molto facile dire, noi crediamo nelle persone, per noi i nostri men sono importantissimi, ma di fatto poi quando guardi dentro con un occhio esterno, alla fine sei una banca. Tantissime aziende sciorinano da cose bellissime sul talento, la leadership, eccetera, puoi a vedere dentro e sono un esercito nazista, per cui ha fatto questo mille regole licenziato. E non c'è, al di là della, diciamo, c'è una netta separazione tra questi ambiti. Mentre invece l'impatto migliore lo si ha quando si riescono un po' a affondere con un senso. E alcuni spunti molto importanti li abbiamo presi da, come dicevo, da un approfondimento sul tema della cultura aziendale e del team, soprattutto da questi due libri. Il libro di Netflix, che tra l'altro è uscito da un mese, è scritto dal CEO di Netflix e una giornalista, approfondisce la cultura aziendale di Netflix, che è molto particolare. E si chiama, si chiama praticamente, l'unica regola è che non ci sono regole, adesso non mi ricordo in italiano come ne hanno tradotto. Ed è interessante perché la cultura di Netflix è davvero, davvero particolare. Perché è una cultura che si basa sul contesto e non sul controllo. E tra poco vediamo qual è la differenza. L'altro invece è interessante perché parla appunto della gestione del team e di quanto è importante radunare persone che sono allineate dallo stesso schema di valori, un po' come le community. Perché appunto più c'è contesto, più c'è allineamento e meno c'è bisogno di regole. Perché le persone spontaneamente fanno ciò che è bene per il gruppo e meno ciò che è bene per se stessi. E quindi il messaggio principale che ti fa capire come è possibile realizzare questa cosa in un'organizzazione che di base non necessariamente ha questo tipo di cultura, è ricordarsi, interiorizzare che il contesto è più importante della struttura. Faccio un esempio, parliamo di un caso molto semplice. un membro del tuo team che va dal capo, va da te, dal fondatore, eccetera, e ti chiede un aumento. Ovviamente, e magari tu non glielo puoi dare. Quindi c'è una situazione scomoda, un attrito, eccetera, eccetera. Ma se quel dipendente avesse accesso ai documenti finanziari e potesse vedere come sta andando l'azienda, magari, non so, c'è il coronavirus, c'è una crisi, abbiamo meno soldi del solito, eccetera, e per un discorso di allineamento fosse 100% convinto che vuole lavorare qua, che il suo impatto è costruire insieme a tutti quanti quello che state costruendo con l'azienda, non te lo chiederebbe mai. È semplicemente perché ha tutte le informazioni per avere il contesto. Magari te lo chiede quando invece è qualche mese che c'è crescita e dice io sono un talento, la mia posizione nel mercato si prende di più, vorrei prendere di più. Ho visto che me lo potete dare, per favore me lo date. È una conversazione diversa. Viceversa, ovviamente, il presupposto, altra cosa che a volte in Italia ci perdiamo per strada, il talento va premiato, il talento si paga. E non siamo solo matti noi a ragionare in questo modo. Ci sono tantissime aziende, tra cui per la prima Netflix, appunto, che facendo di questa cosa, contesto vince sulla struttura e il loro mantra, hanno fatto dei cambiamenti radicali su tantissimi elementi di quelle che sono, diciamo, il codice di condotta aziendale. In Netflix non ci sono ferie, per esempio. Tu puoi andartene quando e quanto ti pare. Tanto l'importante sono gli obiettivi. Se siamo allineati, non faresti mai qualcosa che fa male a Netflix. Viceversa, se andartene a Bali per un mese e accendere il computer una volta al giorno non fa male a Netflix, fallo, ma che me ne frega a me. A Netflix, per esempio, per darvi un'idea, no, del beneficio di questo tipo di approccio alla gestione delle persone. C'è un aneddoto bellissimo di quando Netflix stava lanciando House of Cards e aveva la possibilità di finire sul Wall Street Journal ad avere tantissima esposizione. L'obiettivo era far arrivare alla redazione una nuova TV Samsung, se non sbaglio, con cui aveva fatto una partnership, con dentro già installato Netflix, con già House of Cards intero per fare binge watching. Che succede? Un dipendente lavora fino a tardi la sera, giorno prima, e si rende conto, c'era la TV pronta da mandare il giorno dopo per terra nell'ufficio, che la donna della polizia, vedendo lo scatolone, l'ha preso e l'ha portato via. Porca miseria. Questo dipendente, alle dieci e mezza di sera, che fa? Chiama il CFO per farsi dare l'approvazione a comprarne un altro. Non risponde, giustamente quello sta facendo i cavoli suoi, eccetera. Allora, cosa decide di fare? Tra parentesi, dipendente assunto da sei mesi. Scende giù, comincia a girarsi tutti i negozi aperti, gli Euronics avremmo noi, trova un posto in cui c'è una TV di quel tipo, la compra con i soldi suoi e fa in modo di risolvere il problema. Il giorno dopo, chiedendo il rimborso, chiaramente, della spesa all'azienda. In un'azienda con le regole, qualsiasi persona avrebbe pensato che si basta sulle regole, se io faccio questa cosa, magari poi non mi ridanno i soldi, o col cavolo che mi ridanno i soldi. Ma anche solo, come direbbe Maccio Capadonda, ma che me ne frega a me, io ho il diesel. Io sono un dipendente. Ma che mi importa? Perché devo risolvere questa cosa? Che impatto c'ha? Ma che mi frega? Io sono stato assunto da sei mesi. È un problema loro. Hanno sbagliato loro. Sarà colpa del mio capo. Non doveva lasciare la cosa per terra. Io rischio pure di finirci male se provo a risolvere questa cosa. Ma lascia stare. Ecco, noi questa cosa non la vogliamo. Io vorrei che tutte quante le persone che lavorano con me si comportassero come se fossero dei fondatori. Perché sono responsabili in realtà, quanto me, di dove andiamo come gruppo. E quindi torniamo alla base. Se vogliamo prendere questi principi dalle dinamiche di una community, che è spontanea, allineata, eccetera, eccetera, dobbiamo capire che cos'è una community. Quindi ho parlato a sintetizzare le caratteristiche, no? Si tratta di persone accomunate in una serie di valori. C'è una comunione di intenti chiara, non vaga. Le persone si scambiano feedback e pareri tra pari, perché io non sto parlando di relazioni tra community manager. Sto parlando di relazioni che gestiscono la community, ma relazioni tra membri della community. Quindi sono pari. Le persone non si sentono giudicate a esprimere dei pareri. Sanno che possono contare sul gruppo. C'è una dimensione di appartenenza. Dopodiché questo gruppo vive in degli specifici canali. E dopodiché c'è un codice di condotta condiviso, che ruota chiaramente attorno ai valori del gruppo. E questa cosa mi ha ricordato, diciamo, l'architettura di come dovrebbero funzionare, no? In azienda la struttura degli obiettivi. Ed è un po' come se in questa piramide l'azienda fosse super mega concentrata su task, obiettivi, fattura, dobbiamo fare questo, ma si dimentica completamente la mission, la vision e i valori. Mentre invece le community, che non hanno bisogno di dire, oh, domani dobbiamo avere più 600.000 follower. I community manager magari sì, ma i membri no. Sono invece molto più focalizzati su valori, la vision, la mission, e giustamente non hanno bisogno di quegli obiettivi. Però, se un'azienda che vuole avere il pacchetto completo riconquistasse questa parte, potrebbe davvero costruire quel tipo di cultura. Noi questa cosa l'abbiamo vista come un'occasione anche di implementare. L'abbiamo fatto proprio in questi mesi, durante l'estate, diciamo, di implementare un sistema che coprisse tutte quante queste cose. L'abbiamo trovato nella metodologia degli OKR, che sta per Objective and Key Results, una metodologia nata tra Intel e poi diffusa in Google, Amazon, tantissime aziende usano questa struttura, che parte proprio dalla definizione della vision e della mission. Perché come faccio io a sapere, diciamo, dipendente assunto sei mesi, che deve fare quella scelta, se fare questa cosa è una cosa giusta o no, se non so l'azienda dove sta andando. Non ho niente con cui confrontarlo. Non posso farmi la domanda tipo, fare questa cosa, anche se non ci sono regole, mi porta un passettino più avanti all'obiettivo di tutti o non c'entra niente? Se non è chiaro l'obiettivo di tutti, come faccio a essere abilitato, a essere autonomo, a fare decisioni come farebbe un amministratore, un capo, perché i capi non li controlla nessuno. Però viceversa, se i capi dessero questa informazione a tutti, tutti quanti potrebbero fare decisioni importanti, improvvise, veloci, come se fossero dei grandi manager e dei responsabili. E quindi siamo partiti dai problemi che avevamo. Noi comunque abbiamo sempre avuto una grande attenzione su come gestire il team, perché non vogliamo essere una banca e perché crediamo moltissimo nel talento. E questa è una citazione uscita fuori proprio dai nostri, da alcuni dei nostri membri del team, che quindi tutta l'organizzazione che c'era, comunque erano produttivi, però dicevano, mi sento come se fossi un freelance, che lavora da solo al cliente X, quindi l'organizzazione è talmente fatta bene che hai i tuoi obiettivi, sei focalizzato però come se fossi in una scatola. Vedi i tuoi clienti, i tuoi team, eccetera, eccetera, e non sai niente di quello che sta facendo la persona accanto a te. Poi immaginate esasperato dalla dimensione del lavoro da remoto. Quindi, come abbiamo fatto a provare a impattare su queste cose? Sempre tenendo a mente la nostra direzione, cercare di riportare dentro quegli elementi della community. Numero uno, definire la vision e la mission. È un lavoro che richiede intanto incontri tra founder tutti i weekend per tipo due mesi, per arrivare davvero a togliere pezzi finché non rimane nulla. E dove la vision è un po' l'impatto che vorresti avere sul mondo, la mission è il modo in cui otterrai quell'impatto. E quindi siamo arrivati a sintetizzare quello che vogliamo costruire. E quello che vogliamo costruire non è una scelta che fai per i soldi, è una scelta che fai sulla base dei tuoi valori, dei valori intanto dei fondatori soprattutto, perché nessuno vorrebbe investire anni della propria vita a costruire una cosa che magari ti fa a che fare i soldi, ma non te ne frega niente di avere a che fare con quel problema da risolvere nel mondo per anni e anni e anni. Quindi per esempio sul tema dei dati, il contributo che ho dato io è la lotta all'ignoranza. Io credo che tantissimo male del mondo, dentro e fuori le aziende, sia causato dall'ignoranza. Diffondere la cultura del dato, delle informazioni vere, combatte anche questo. Invece il mio socio Roberto era più appassionato dal problema del fatto che le aziende realizzano cose inutili, provano a venderti, il marketing è intasato da prodotti orrendi, comunicazione orrenda, che ti rovina la vita, perché ovunque di giri vedi queste cose, è poco trasparente, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo trovato una cosa che unisse la visione di tutti e l'abbiamo concretizzata. E poi chiaramente condivisa con tutti per dire abbiamo definito che noi siamo questo, se credevate di stare in un'azienda diversa, potete andarvene, ovviamente, magari non vi piace. Se vi piace, andiamo avanti insieme. Dopodiché, la trasparenza. Da questa estata, anzi da settembre, abbiamo dato accesso a tutti i dipendenti, collego il Mac, altrimenti sparisco dal nulla, a tutti quanti i documenti finanziari. Il 100% delle persone che lavora con noi sa quanto ci pagano i nostri clienti, sa gli stipendi delle persone, sa tutto. Perché questo gli dà il contesto. Io posso fare delle scelte perché queste cose le so. Loro non possono. Adesso poi invece possono. Esempio, cliente manifesta l'idea di dire ma mi servirebbe, certo, se fossero più bravi con le vendite andrebbe meglio. E perché lui, che ne so, Salvatore, dovrebbe dire Roberto, forse lui ha bisogno di un corso sulle vendite. Ok, Simone fai l'offerta, Roberto poi fa una call. Ma perché? Fallo tu, Salvatore. Lo conosci tu. Sai quanto ci paga, sai quanto gli serve, sei abilitato. Chiaramente non è che noi spariamo, ti aiutiamo, ti diamo consigli. Ma lo puoi fare da solo. Hai le informazioni per farlo. Dopodiché, per evitare la solitudine, abbiamo istituito un check settimanale che facciamo ogni settimana, anche per 30 minuti, dove tutti, aggiornano tutti, su cosa hanno fatto la settimana scorsa e quali sono gli obiettivi di questa settimana per far sì che tutti sanno come sta andando l'azienda, come sta andando la community, anche quando non si occupano direttamente delle cose. Per garantire la qualità, l'interesse, abbiamo istituito anche questo strumento, sempre preso da Netflix, che si chiama Kiepertest. Sarebbe a dire, chiedere ai tuoi responsabili, saresti disposto a fare di tutto per tenermi se io me ne volessi andare? E se la risposta è no, significa che ci sono delle cose che puoi migliorare. Cioè, della sera, se ti dicessi da domani, o mi dai 5.000 euro o mi licenzio, faresti di tutto, magari non ce li hai, però fai qualcosa, eccetera, eccetera, fai di tutto. E questo non significa che se la risposta è no, lo licenzi. La risposta è no, virgola, io vorrei dirti di sì, ovviamente, perché comunque se andassi male già t'arrei licenziato, virgola, ecco le due o tre cose che dovresti migliorare per farmi dire, porca miseria, corrette queste cose, è perfetto. E dare gli strumenti alle persone per sapere cosa non va e poterlo correggere. E questo è in linea anche molto con una modalità di comunicazione che si chiama candore radicale. Non mi dilungo, c'è un TED Talk bellissimo, un libro su questa cosa, se non sbaglio, anche questo è emerso da chi ha lavorato in Google. E sostanzialmente questo è un asse cartesiano dove ci sta su una linea quanto te ne frega della persona e sull'altro quanto lo sei diretto o indiretto. E l'ideale, sostanzialmente, è un feedback che sfrutta il candore radicale, cioè è super diretto, che se fosse diretto ma non me ne frega sarebbe aggressione e quindi mette sulla difensiva, ma è super diretto ma ti interessa. Come nell'esempio di prima. Io non ti dico che non farei di tutto perché ti voglio cacciare. Io vorrei dirti di sì, però effettivamente mi vengono in mente che ci sono delle cose che creano dei problemi. Che ne so, sei troppo prolisso, non arrivi al punto, non citi mai i dati quando parli con quello, potresti migliorare l'intelligenza emotiva. Glielo devi dire. Se non sei trasparente, lui non può sapere come migliorare con tutto che magari lo vuole fare. L'unico modo per scatenare crescita è questo. Così come nelle community a costo di avere scontri nei commenti online, eccetera, eccetera, le persone si confrontano in trasparenza sui vari temi. Stiamo cercando di istituire una cultura del feedback, quindi premiare le persone anche a dire queste cose scomode, però è importante dirlo per la crescita di tutti e non dirlo tra un mese quando ormai è passato. Lo dici subito. A noi è successo, per esempio, quando stavo facendo un talk su questa cosa poco tempo fa per la cultura aziendale, dopo che abbiamo detto questo, subito dopo, stavamo andando avanti con degli altri aneddoti di Netflix e uno, seguendo questa cosa, ha alzato la mano e ha detto scusa Roberto, abbiamo capito con gli esempi, puoi andare avanti, sei ridondante, non credo che ci stai aiutando a capire. Ok, interrompendo il meeting, perché solo se lo fai subito uno si corregge, se lo fai alla fine magari l'errore è troppo darvi. Altra cosa, sempre come comunicazione abbiamo creato una newsletter aziendale che ogni mese informa tutti delle cose più importanti e una volta al mese sempre abbiamo organizzato per ora online un 247X party per cui dopo il check del venerdì, eccetera, noi tutti rimaniamo online indefinitamente con la birra in mano e continuiamo a chiacchierare di quello che ci pare. Altra cosa, visto che noi comunque ci confrontiamo con obiettivi, clienti, in realtà lavoriamo nell'ambito dell'innovazione, quindi un ambito che muta tantissimo, specie poi in questo periodo con il coronavirus e sostanzialmente facciamo anche dei check per vedere ma gli obiettivi che ci siamo dati sono ancora utili o sono obsoleti? Perché anche là nell'azienda con le regole se tu mi dici che il giorno X fa Y e poi non lo fai, anche se tu mi dici guarda, a metà mi sono reso conto che era una cavolata fare Y è comunque un problema perché io me l'aspettavo quindi prevediamo dei momenti di cambiamento e poi chiudo tra un minuto e poi altra cosa per il discorso di proporre idee un po' come se fosse un meetup anche qui una volta al mese abbiamo un modo di confrontarci sulle idee di votarle e sostanzialmente di chiedere aiuto alla mente collettiva su qualsiasi tipo di spunto di problema per vedere se vale la pena implementarlo o come tutte le persone che fanno parte dell'azienda possono aiutarci a risolverlo quindi se vedete abbiamo un po' fatto un check su tutte quante queste cose con delle azioni concrete per provare a riportare quella struttura quel contesto con anche scelte importanti nel senso non credo siano tante le aziende che lasciano open source i documenti finanziari ai dipendenti pur di avere questa trasparenza e questa velocità d'azione questa indipendenza un po' come il clima che si respira nelle community e questi sono i dati di un typeform fatto ai dipendenti dopo che abbiamo fatto tutti questi cambiamenti quindi le persone finalmente si sentono allineate cioè sanno tutto quello che stiamo facendo insieme sono anche più produttive grazie a queste impostazioni e queste attività e sono anche molto più motivate perché si sentono in grado di poter scatenare un impatto tornando all'esempio iniziale lo stipendio per dire tu adesso hai gli strumenti per per esempio vuoi un aumento di stipendio hai tutti gli strumenti per vendere di più generare più fatturato e da quel fatturato è come se ti dessi lo stipendio da solo perché io lo voglio e lo vedo che l'hai fatto tu e te lo meriti e te lo do se non ci sono i soldi che me lo chiedi a fare lo stipendio non te lo posso dare non è che che non credo nel talento quindi il messaggio è che ci sono esempi virtuosi in cui il contesto crea una reattività tra parentesi Netflix è partita che vendeva i DVD per posta e adesso è una multinazionale incredibile che continua a evolvere anche tanto io non ho nessun particolare amore per Netflix però stimo un percorso del genere e e l'unico abilitatore è dare il contesto se vuoi che le persone si comportino come i fondatori devi cominciare a trattarli come tali dargli le stesse informazioni che hai tu perché sono quelle che ti abilitano a fare decisioni importanti sul momento senza bisogno di creare procedure e regole per qualsiasi cosa che comunque non ti aiuterebbero granché è una scelta importante anche rischiosa non per tutti però è una scelta possibile e davvero è in grado di trasformare una organizzazione in una vera community che sa cosa sta facendo lo vuole fare ed è in grado di proporre organizzarsi spontaneamente sempre in linea con quello che è il motivo per cui siamo tutti qui grazie grazie a te Luca un attimo solo perché se andrà arrivare qualcosa una standing version ascolta qui abbiamo il tempo almeno per una domanda e vado subito con la domanda di Cristian che ci chiede che ti chiede vuol dire che installare una community in un'impresa riesce a cambiare i modelli di gestione aziendale penso che in realtà già hai risposto però se vuoi è l'inverso di causa-effetto solo cambiando il modello di gestione aziendale può instaurare la community nell'impresa però è una scelta importante cioè io credo che alcune cose che le aziende fanno tipo i manager hanno dei segreti industriali che i dipendenti non hanno sono un po' delle best practice acquisite tipo se mi guardo intorno fanno tutti così però ragioniamoci ha davvero senso poi magari c'è chi veramente vuole costruire la banca e si comportasse come una banca noi non vogliamo essere una banca noi abbiamo paura di quel tipo di clima perché viviamo in un mondo troppo veloce per comportarci in questo modo e le cose migliori che abbiamo fatto nella nostra azienda sono state decisioni prese dai capi sul momento da dei dati eccetera se tutti potessero fare questo sarebbe ancora meglio sarebbe pazzesco e quindi noi siamo disposti a correre il rischio per abilitare questa velocità e questa autonomia nel frattempo Cristian pure ci ha aggiunto la domanda era proprio l'inversione riusciamo tramite una comunità a convincere la gestione su modelli nuovi? beh in questo caso mi focalizzerei su casi studio simili all'azienda diciamo in modo tale da dimostrargli dici guarda che non ti sto dicendo una follia Netflix lo fa Zappos lo fa automatic politiche del genere quindi mostragli concretamente che ci sono aziende che hanno avuto risultati a livello aziendale perché poi i KPI dell'azienda sono quelli pazzeschi così da diciamo anticipare le obiezioni di chi deve fare questa decisione perché comunque da qualcuno deve arrivare questa decisione ok vabbè da oggi in Italia ci siete pure voi almeno lo sappiamo chi partecipa oggi ha partecipato a questa sessione velocissimamente ultimissima domanda e poi scappiamo tutti di là Alessio il nostro Alessio ci chiede qual è l'equilibrio tra il divulgare tutto e la tu a quando ho capito se proprio radicalmente divulghiamo tutto secondo te invece ci possono essere cose che conviene non divulgare o c'è comunque un equilibrio ma anche questo ovviamente va deciso sto pensando se ci sono cose che non divulghiamo ovviamente i dipendenti non hanno la password del conto in banca ma manco io ce l'ho la Simone che è il CFO perché non serve a niente e quindi la domanda è forse mi sono risposto da solo dicendo questa cosa divulga tutto ciò che ha uno scopo di abilitazione a prendere decisioni impattanti se non gli dà nessun strumento in più non serve che glielo dici se invece ce l'ha sì ancora grazie Luca io spero che potrai stare con noi perché avremo accettando networking e tutti coloro che hanno partecipato e ti vogliono contattare possono fare click sul nome di Luca e fargli tutte le domande quindi spero che potrai rispondere perché c'è molto interesse vedo grazie mille Luca alla prossima grazie ancora ciao ciao ciao